vediamo un famoso artista Pasquale Caffiero che si sta rifocillando prima del concerto mi dica questa lei sta mangiando un panino con il prosciutto crudo ma lei lei di dov'è io sono di Trento con questo cognome ecco mi dica no l'origine del cognome risale alla famosa Gilgenti mi scusi l'ignoranza è una provincia siciliana non l'ho mai sentita io no Agrigento Agrigento mi ha detto ah no no ho capito ho capito Gilgenti mi scusi una volta si chiamava Gilgenti sì sì ah no avevo capito un'altra cosa sono un po sordo ho capito e come mai da queste parti per il panino per il panino ma scusi perché lì nella sua terra non ci sono panini non c'è prosciutto ci sono però io l'ho cercato in un momento sbagliato allora diciamo così lei per il panino voleva andare a Parma poi lì il treno non fermava e si è trovato qua a Trento col prosciutto di Parma di Parma ma sai che lei è un bel tipo e lo so un po strano quindi mi hanno accontentato mi hanno offerto questo panino dopo lunga esistenza sua me l'hanno fatto sudare me l'hanno fatto sudare ma ascoli odio sette anni di tormento sette anni guardi che mi fa mi piscio no ma sette anni per un panino difatti è un po magliorino guardi mi scusi Pasqua da che da quanti anni è qua in prigione che anno era quando è entrato dal 53 dal 53 a che ora alle 8 di mattina alle 8 di mattina soffriva soffriva di insonnia certo soffrivo di tempi limitati dovevo rispettare le regole perché ero brigadiere allora era brigadiere dopo quando ho diventato mariciallo ho cominciato a nuotare nell'oro è difficile nuotare nell'oro è più facile che nuotare nell'acqua avendo l'oro però guardi che siamo in diretta mi raccomando ma dopo lei qua mi hanno detto che che ha composto una canzone anche questa è composta il cantautore fabrizio ad andare anche ma non andiamo a scomodare questa è semplicemente la sua che magari si incazza magari si incazza pur essendo una regno dei morti allora non c'è dunque non si può incassare magari si può incassare anche penso lei ha paura che si incazzi venga di notte mio dio mi tira anche il lenzuolo e allora mi fa prendere uno spavento guardi che mi fa tremare tutta la telecamera ma lei la sarebbe in grado di cantare questa canzone questo ci vorrebbe un po di allenamento come diceva mio padre allenamento in che senso deve fare i 100 metri non lo so non so allenamento musicale beh lo faccia qua tanto abbiamo 20 milioni di telespettatori e non c'è tempo però è troppo poco tempo però non c'è tempo non abbiamo più tempo non c'è qui non ci sono problemi di tempo guardi se lei pensa che se lei pensa che si raffreddi il ma no c'è caffè del caffè che devo bere alla fine ma il caffè andiamo prendo adesso lei mi accendi due note lì tanto per far sentire ai telespettatori qua l'introduzione della canzone di io mi chiamo pascuale caffè io sono brigadiero del carcerino io mi chiamo pascuale caffè io sono brigadiero del carcerino io mi chiamo capito pascuale sul pugio regale da 53 e al trentesimo catenaccio alla sera mi sento un ostaccio per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me non c'è non le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi stai soffaticenti per queste effetti entesi della nulla immunità, mi cervello mi asciuga la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quest'uomo sceltissimo e immenso, io chiedo consenso a don Raffaele, un garantuolo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ti danno i consigli, ah che bello il caffè, pure un carcere standoff, cari c'è tra i cicciri nella compagnia di cena, si l'ha dato mamma, ah che bello il caffè, sono impazzesco standoff, cari c'è tra i cicciri nella compagnia di cena, si l'ha dato mamma,